Tradizione discutibile o trascurabile per alcuni, problema concreto per tanti altri. Anche nel Capodanno 2023, la notte di San Silvestro sarà accompagnata dal consueto rituale di botti e di petardi e, come di consueto, per i possessori di animali domestici, cani e gatti in primis, rappresenterà una dinamica dagli shock fisici ed emotivi molto complessi da gestire, così come una dinamica che diventa spesso letale per fauna selvatica e volatili. Come ogni anno, puntuale si moltiplica da più parti il no ai botti. Come ogni anno sarà però una dinamica più o meno intensa soltanto a seconda dei comportamenti individuali. Perché ad oggi, 28 dicembre, a Pesaro l'esplosione dei petardi non sarà regolamentata da ordinanze che li vietino o ne circoscrivino l'utilizzo, che sia centro storico o che siano i quartieri. Due anni fa ci fu un'ordinanza in tal senso emanata dall'assessorata alle attività economiche. L'anno scorso non ci fu e difficilmente ci sarà nei prossimi giorni. Il problema non è solo a Capodanno, ma sono i giorni prima e i giorni dopo, anche per chi ha i cani. Magari a Capodanno uno sta un pochino più attento, mentre i giorni prima e i giorni dopo, se si distrae un attimo, è facile che il cane fugga. È chiaro che la legge non ti dà armi in particolare, perché nel momento in cui tu li puoi vendere, poi è difficile che puoi vietare l'utilizzo. I comuni cosa possono fare? Possono fare delle ordinanze come è stata fatta per la piazza del resto, che era l'ordinanza soprattutto per motivi di sicurezza. Anche perché fare un'ordinanza per tutta la città, oggettivamente io non amo i fuochi d'artificio, non amo i petardi e amo il mio cane. Però da amministratore devi pensare e capire che c'è anche chi li ha comperati, chi li ha venduti e la legge non è che ti dà degli strumenti. Anche se il Comune dovesse fare un'ordinanza per vietare l'utilizzo dei fuochi d'artificio, poi ci vorrebbero almeno 500-600 tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato per controllare il territorio. È una delle classiche cose che sarebbe un prendersi in giro tra di noi. Dici, è vietato, ma chi controlla? Come fai a controllare? Chi ha detto che ho esploso io il petardo e non è stato un altro? Cerco di essere, diciamo, franco, non politico. È una questione di educazione sostanzialmente, grosso o piccolo che sia. Il petardo per un animale è un problema perché l'udito dei cani, per esempio, è molto superiore rispetto a quello di un umano. Quindi i rumori che noi apparentemente non sentiamo, loro li sentono molto, molto amplificati. Il mio può essere un invito, quello di non utilizzarli o quantomeno non utilizzarli prima o dopo di Capodanno, insomma, avere un po' di discrezione. Il Comune probabilmente metterà un'ordinanza per la piazza del popolo relativa alla sicurezza, visto che ci sarà e si festeggerà il Capodanno in piazza. Per il resto mi sembra difficile poter pensare di fare un'ordinanza per tutta la città. Sarebbe impossibile da controllare. Non ci sono ordinanze perché mancherebbe sia la coerenza, sia i mezzi per garantirne rispetto e sanzioni. La pensa però diversamente il consigliere comunale della Lega, Andrea Marchionni, che già in passato si era battuto per regolamentare un problema troppo spesso sottostimato. Una normativa a livello nazionale sarebbe auspicabile, ma non c'è. Le ordinanze comunali ci sono in vari comuni, ad esempio Grotta Mare l'ha emanata il 7 dicembre. Si tratta di farle in maniera precisa, dal punto di vista legislativo, e anche circoscritta, cioè limitarle a certe giornate, limitarle a certi tipi di botti, quindi di petardi, per essere precisi. Quindi fare in modo che non sia un'ordinanza contro tutto e tutti, perché effettivamente la vendita è libera, cioè non è libera ma non è vietata, con certe regole. Però una ordinanza che delimiti l'uso e dia dei divieti, sicuramente aiuterebbe a diminuire percentualmente molto l'uso di questi botti, nonché i controlli sulla vendita, che chiaramente dovrebbero essere fatti sempre. Avere o non avere un'ordinanza può però fare la differenza sull'attutire le criticità e ridurre il problema in percentuale più o meno piccola. Secondo me frena anche chi effettivamente si diverte nel far esplodere i petardi, perché non tutti sono subito pronti a andare contro l'ordinanza. Mi auguro che la maggioranza della popolazione sia propensa a rispettarle, quindi effettivamente ci sarà sempre una percentuale che non rispetta, perché magari dice sa che tanto non ci sarà un vigile in ogni quartiere, in ogni angolo, come succede sempre anche per i divieti di sosta, però sicuramente una buona percentuale non andrebbe contro questa ordinanza, sarebbe più attenta al rispetto. Certo vedendo l'amministrazione che invece non se ne preoccupa, perché dovrebbero preoccuparsene loro.